Fra le realtà del volontariato che hanno dovuto modificare le proprie attività adattandole alle esigenze del Covid, la Croce Rossa Comitato di Belluno, attiva anche in ambito sociale, con la consegna fra i vari servizi di viveri alle persone bisognose. Eravamo preoccupati di non riuscire ad assicurare continuamente l'assistenza perché le nostre attività che ci portano l'introito necessario per comprare gli alimenti sono notevolmente diminuite, però grazie alla generosità degli imprenditori del nostro territorio, della gente del nostro territorio e grazie alla generosità anche della rete di cui noi facciamo parte, in particolare della Croce Rossa del Veneto, siamo riusciti ad ottenere ed avere gli alimenti necessari per addirittura fornire nel periodo di Natale una spesa più generosa. Nonostante le difficoltà dettate dalla carenza di liquidità, ma grazie alla solidarietà di cittadini e aziende non è venuto meno dunque anche in questo periodo natalizio, il supporto che il sodalizio può dare alle persone che vivono una situazione di fragilità, in molti casi a causa delle conseguenze economiche della pandemia. Le famiglie che riusciamo ad assistere sono 40 mensilmente che vengono presso la nostra sede, organizzata chiaramente in periodo di Covid, vengono alla nostra sede due volte al mese a ricevere la spesa. La cifra che abbiamo individuato come essere necessaria per poter fornire gli alimenti a queste famiglie sono circa 1200 euro al mese. A chiedere aiuto in particolare sono persone di nazionalità straniera da tempo presenti in provincia, tuttavia non mancano anche i bellunesi. Le famiglie che aiutiamo sono in prevalenza straniere, ma ce ne sono anche italiane, sono aumentate recentemente perché il Covid ha aumentato le fragilità in atto. Comunque sono tutte famiglie che ci vengono segnalate dagli assistenti sociali dei comuni.